Tre minuti oggi non grezzi ma grezzissimi perché il mio computer non può essere utilizzato perché la stanza, la camera da letto dove c'è il mio tavolo, il mio computer e quindi anche il microfono e le altre cose, sono in alto mare. Abbiamo appena finito di smontare il letto, il letto che aveva una testiera, sopra la testiera c'erano delle librerie piene di libri perché lunedì dovrebbe arrivare il nuovo letto, anzi dovrebbe andare a ritirarci il nuovo letto che abbiamo ordinato da Ikea. Ed è un letto particolare perché è un letto alto di quelli di qua soppalco, non è semplicissimo trovare i letti a soppalco in misura matrimoniale, infatti inizialmente avevamo pensato di farcelo fare da un falegname però poi era veramente troppo costoso, troppo 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 costoso per cui abbiamo optato per una cosa più semplice, prendere uno già fatto da Ikea. Cambierà la stanza completamente e mi darà lo spazio sotto, potrà diventare tutto un lungo tavolo da lavoro e quello di cui ho bisogno. Probabilmente non la giornata migliore per fare questi grandi lavori, queste grandi manovre perché fuori fa un caldo, boia, oggi di nuovo avremo, mi pare 35 gradi anche se poi la temperatura percepita diciamo arriva abbondantemente ai 40, infatti io sono indecisa se farmi o meno la doccia, sono completamente bagnata di sudore ma so che appena uscita dalla doccia continuerò a sudare e poi c'è anche il fatto che ancora non abbiamo caricato tutto sulla macchina perché portiamo il vecchio letto in campagna. Sì, è un problema, no non è un problema, è divertente, ci sono altre cose che sono molto più problematiche. Quindi tre minuti grezzi di oggi saranno in versione super ridotta, non dal punto di vista della literata perché dureranno sempre tre minuti però non avrò la possibilità di fare tutti i ghirigori e le cose che di solito faccio trascrizione, traduzione, pubblicazione, a destra e a manca, insomma lo farò più avanti magari domani con calma mi allestirò uno spazietto dove poter lavorare magari con il portatile. Quindi per il momento da questa assolata città dei fenicotteri è tutto, rimando a domani e poi ho anche delle idee fantastiche su come modificare la stanza, ora che abbiamo tabula rasa più o meno, cambiare un po' la disposizione, mettere un po' di colore, insomma ci sarà da divertirsi. E come sempre vederlo aggiornati, va bene, è tutto, a domani, ciao!